Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con il benessere visivo. Spesso ci si dimentica che gli occhi dei più piccoli devono essere protetti dal sole, quindi meglio abituarli sin da piccoli all'uso delle lenti protettive. I raggi UV possono essere molto pericolosi, sia per la delicata pelle dei bambini che anche per i loro occhietti. È un po' lo stesso accorgimento che abbiamo quando portiamo i nostri bambini al mare e utilizziamo per loro la protezione 50+. Stessa cosa va fatta anche per i loro occhi, quindi la protezione deve essere massima. Non solo l'uso del cappellino che è fondamentale, ma gli occhi hanno bisogno di una massima protezione. Gli occhiali per i più piccoli devono essere robusti ma leggeri, assicurare un campo visivo ampio e regolare in modo da coprire bene l'occhio. Il materiale deve essere morbido, indeformabile e biocompatibile, visto che potrebbero rosicchiare i terminali. Non devono essere spigolosi e non ci devono essere sporgenze. Le asse devono essere elastiche ed aderenti per assicurare una perfetta calzata. Acquistate sempre occhiali certificati con marcatura CE dal vostro ottico di fiducia. Per i bambini più piccolini, per i neonati che ancora non hanno un setto nasale e le orecchie del tutto formate, è sconsigliato l'utilizzo degli occhiali da sole, bensì un cappello a tesa larga e la protezione massima che possono avere. Sicuramente non disposizione diretta ai raggi ultravioletti. Per oggi è tutto, un saluto a tutti i bimbi che ci stanno seguendo.